Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Siamo alla conclusione della stagione agonistica professionistica, si è appena conclusa infatti la finale di ritorno per la promozione in Serie B. Il Lecco ha battuto 3-1 il Foggia e conquista quindi l'ultimo posto disponibile per la promozione e sarà quindi una delle 20 squadre del campionato di Serie B della stagione prossima. Una gara che è somigliato molto alla partita di andata, il Foggia è partito molto meglio, ha trovato subito il gol del 1-0, per la prima mezz'ora ha dominato l'incontro, L'Ecco non ci stava capendo niente, molto in difficoltà anche da un punto di vista emotivo, il Foggia ha avuto due occasioni grosse per trovare la rete del 2-0, quello che avrebbe potuto portare il Foggia al vantaggio della qualificazione per la Serie B, poi però come nella gara d'andata il Lecco è stato molto abile a sfruttare gli episodi. Ci sono due momenti sliding doors nella gara, il primo è tra il minuto 27 e il minuto 30, ovvero quando al 27esimo Ogunseie, servito da Biarkason che aveva già realizzato il gol del 1-0 al terzo minuto con una pregevole azione appena entrato in area battendo Malgrati, serve a Ogunseie un'occasione da gol incredibile nell'area di porta e l'attaccante del Foggia riesce a mettere il pallone alto di testa. Due minuti dopo c'è la prima azione sostanzialmente d'attacco dell'Ecco dall'altra parte, c'è un'azione di Buso che viene fermato in calcio d'angolo, sui sviluppi del calcio d'angolo c'è un contrasto tra Ogunseie e Bianconi, Bianconi rimane a terra, l'arbitro Di Marco dal campo non concede niente però il presidente Marani ha voluto la dannata Moviola in questi play-off di Serie B, Moviola però che in questo caso il VAR è stato usato a differenza che nella gara di andata dove l'ineffabile coppia Bonacina-Nasca ha deciso di convalidare tutte le assurde decisioni dell'arbitro Lombardo senza andare a rivedere le reazioni, in questo caso invece Marini, segnara Di Marco che ci potrebbe essere qualcosa di strano, dal replay obiettivamente sembra che il contatto ci sia, che Ogunseie nel tentativo di anticipare colpisca il piede di Bianconi dal dischetto si presenta Lepore ed è la rete dell'1-1, qui in effetti il Lecco per la prima volta nelle due partite prende in mano la partita, quello che è mancato completamente il Foggia è la reazione dopo la rete dell'1-1 mentre nella partita d'andata Foggia ha giocato meglio, poi il Lecco aveva preso un po' in mano la gara, Foggia nel secondo tempo un po' più pericoloso tutte le assurde decisioni di Bonacina che ovviamente pesano come un macigno in questo doppio confronto però poi nel finale il Lecco che trova il gol della vittoria con Lepore su punizione, primo tempo tutto del Foggia fino a questo gol da quel momento il Lecco prende un po' in mano la gara, il Foggia fa veramente fatica e abbiamo il secondo sliding doors che è al minuto tra il 73esimo e il 77esimo. I cambi del Lecco trovo che siano entrati meglio in partita rispetto ai cambi del Foggia peraltro privato anche di Costa perché è l'ultima perla che ha regalato Bonacina nella gara di andata e anche aver portato, aver ammonito o espulso, non ho ben capito, Costa negli spogliatoi e questo ha portato alla squalifica anche del forte laterale del Foggia 73esimo, c'è una grande chance per ancora la formazione degli Orossi, un'azione spettacolare di Biarkasson credo che fosse Biarkasson, ha preso l'appunto, Melgrati risponde, una parata un po' insicura Beretta da due passi, Beretta che era entrata al posto di Ogunseie, manca completamente l'occasione da rete e due minuti dopo invece è Lecco a trovare il gol che di fatto chiude la qualificazione da una rimessa laterale, anche questa contestata da Conte che la rimessa è per il Lecco e un tiro da fuori area di Dudu, molto male dal masso, la retroguardia del Foggia è molto spaisata e l'Acti è bravo a mettere in rete il pallone del 2-1. Poi la gara si innervosisce molto e nel finale Lepore con un Foggia oramai sbilanciato completamente in avanti trova il punto del 3-1 quindi nel complesso alla fine, a mio avviso, per quello che ha fatto nel secondo tempo il Lecco oggi ha sicuramente meritato la vittoria e è stato molto bravo, molto cinico sicuramente nello sfruttare al meglio le occasioni che si è procurata nel corso della partita fare finta che non ci sia stato un problema arbitrale in questa serie di promozione sarebbe ridicolo perché un problema arbitrale c'è stato, ho letto su alcuni giornali addirittura che la prestazione di Buonacina sarebbe stata giudicata in maniera positiva dai vertici della federazione da chi era tenuto a giudicarlo, spero che questo non sia vero, spero che non si aggiunga la beffa che oltre alla promozione dell'Ecco in B e di dover vedere anche la promozione di Buonacina in B però al di là di quello, ripeto, rimane che, e questo è molto grave, comunque tutto quello che è avvenuto però l'Ecco comunque nel finale di gara trovo che abbia legittimato il risultato che ha ottenuto il Foggia è arrivato molto stanco, stanco mi è sembrato quasi anche più mentalmente che non fisicamente sicuramente la cattiva partita di Ogunseie lascia una traccia il cambio con Beretta stavolta non ha funzionato mi è piaciuto molto di noia e credo che il fatto che sia dovuto uscire lui sia stato sicuramente qualcosa di negativo per il Foggia viceversa invece l'Ecco ha avuto Bianconi, un forte leader difensivo e mi è piaciuto molto a centrocampo dove trovo che tutti i giocatori dell'Ecco siano stati veramente bravi in particolare i Galli e i Giudici che mi sono molto piaciuti e poi c'è una prima stella assoluta in tutto quello che è stata questa serie per la promozione ovvero l'Epore che ha realizzato tre gol tra l'annata e il ritorno oggi il rigore dell'1-1 e poi la rete finale del 3-1 l'Epore è stato usato in una serie infinita di ruoli spostandolo tatticamente un giocatore esperto, un giocatore capace, un giocatore vincente che credo sia stato veramente l'uomo in più per questo Lecco che quindi accede al campionato di Serie B Pagella, 6 a Milgradis, 6 a Celiac, 7 a Bianconi, 6 e mezzo a Battistini 7 a Giudici, 6 e mezzo a Zuccon, 7 a Galli, 6 e mezzo a Girelli 8 a Lepore, 6 e mezzo a Buso, 6 e mezzo a Pinzauti 7 a Foschi, 7 a Lacti, 6 e mezzo a Dudu, 6 e mezzo a Zambataro per quanto riguarda il Foggia, male dal masso stavolta molto responsabile in occasione della rete del 2-1 e anche in uscita sul 3-1, per oramai i giochi erano fatti probabilmente, 4 e mezzo per lui, 6 a Leo, 6 e mezzo a Contec che ha giocato un gran primo tempo ed è poi un po' calato forse anche lui nella ripresa, 6 a Rizzo, 6 e mezzo a Garattoni a mio avviso il migliore del Foggia, poi un po' un brutto il fallo nel finale che fa quando però i nervi erano saltati oramai completamente 6 a Frigerio, 6 e mezzo a Dinoia, 6 a Schenetti, 7 a Biarkason 6 a Peralta, gran primo tempo, anche lui molto calato nella ripresa 4 a Gunseie, non è che voglio buttare tutta la croce su di lui ma i suoi due errori sono troppo gravi nella gara di oggi 6 a Deglio Rossi, 5 e mezzo a Vacca, 4 a Beretta nei subentrati l'arbitro di Marco, il voto per me è per lui è 6 è sicuramente molto meglio di Buonacina se questi sono i due arbitri migliori che si sono fatti nella finale credo ci sia un grosso problema in questa stagione di produzione di arbitri di valore gli ultimi promossi nella candela sedia B sono stati sicuramente di livello molto basso non trovo logico da nessun punto di vista e non sono contrario in sé io credo nella buona fede arbitraria e ci mancherebbe altro è la base di tutto, io stesso sono un arbitro e ci mancherebbe che questo venisse anche solo messo in dubbio però mi chiedo l'opportunità, il senso dell'opportunità come sia stato possibile nella gara di andata schierare e mettere Buonacina in quella partita la prestazione di Buonacina è stata orribile è stata orribile e è stata molto incidente su questa gara a prescindere da tutto, il VAR non mi piace, non mi piacerà mai non mi piace l'utilizzo alla kart che ne viene fatto nelle diverse partite però oggi a prescindere credo sia stato usato nel modo corretto grazie ragazzi, grazie per avermi seguito durante questi playoff grazie per avermi seguito durante la stagione l'appuntamento è per il prossimo campionato iscrivetevi al canale, un bacione e ciao a tutti da ROX